Tokyo 2020, almeno sulla strada, parlerà anche un po' abruzzese, sia al maschile che al femminile. I commissari tecnici Cassani e Salvoldi infatti hanno diramato le convocazioni per le prove su strada dell'Olimpiade Nipponica. Tra gli uomini c'è il nostro Giulio Ciccone, raduce da un giro di taglia per due terzi di grande livello e che, senza Tour de France, si sta preparando per la Vuelta di Spagna. Ma lo farà potendo essere anche uno dei cinque moschettieri di Tokyo. Insieme a lui anche Alberto Bettiole, dello Educations First, che al giro ha vinto la tappa di Stradella ma in carriera ha fatto su anche un Fiandre ed è uno di quelli che possono dare una stoccata imprevista e imprevedibile. Poi, vista la corsa rosa di quest'anno, non poteva mancare Damiano Caruso, secondo classificato e leader, strada facendo della Bahrain-Victorious dopo la caduta di Michel Landa. Caruso non poteva non esserci perché ha dimostrato di essere uno degli italiani più in palla, anche se mancano ancora più di 20 giorni per la prova olimpica. Gianni Moscon invece ha trascinato i gambernal sulle strade del giro e ha appena fatto su il Gran Premio di Lugano. Ha saltato il Tour accanto ai tanti leader della Ineos, ma è stato sensazionale nelle tre settimane al giro. E poi Vincenzo Nibali, l'uomo di cui si è parlato soprattutto paventando nell'esclusione, cosa poi che non è avvenuta, anche se lo squalo di Messina è evidentemente in fase calante. Ma è il ciclista tricolore in attività più vincente e l'esperienza a vincere conta. Giulio Ciccone ritroverà Nibali, compagno di squadra alla Trek Segafredo. Domenica scorsa i campionati italiani le scintille tra i due che hanno certificato che la convivenza, critica prima, adesso sarà impossibile. Chissà che la maglia tricolore non possa porre fine, almeno temporaneamente, a un momento di tensione in corsa. Ciccone ha detto il commissario tecnico Cassani mi ispira fiducia, sa prepararsi molto bene per eventi importanti come questo e per due terzi del giro è stato il migliore degli italiani. Fronte rosa e l'Abruzzo resta protagonista grazie a Marta Bastianelli, scelta dal commissario tecnico Salvoldi per cercare anche qui una medaglia. La ragazza laziale ormai trapiantata in Abruzzo in questo mese di giugno ha già fatto vedere di essere in palla allo sprint nella seconda e ultima tappa del Tour de Suisse. Se Nibali tra gli uomini ha le stimmate del vincente, Marta è una super vincente. Campionessa del mondo, campionessa d'Europa e campionessa d'Italia ha vinto un Fiandre, una Gand Wevelgem, una freccia del Brabante, insomma. Se si parla di abitudine al successo, Marta è una sicurezza. Con lei l'omonima Marta Cavalli, insieme a Tatiana Guderzo, Soraya Paladin ed Elisa Longoborghini, appena confermata campionessa italiana Imola. Due abruzzesi dunque per potenziali sei medaglie. Giulio e Marta ci proveranno. Non sarà facile, ma Tokyo potrebbe portare l'Abruzzo sul tetto del mondo del ciclismo.